Il cinema serve a farci sognare ma anche a farci riflettere. Florestano Vancini era figlio di questa terra, tanto da insistere per tornare dopo la morte ed era figlio di questo principio, usare la macchina da presa per ripecorrere la storia con un grande impegno civile per non dimenticare. E anche grazie a te e a Giorgio Bassani se ogni volta che costeggiamo il castello dal lato di Corso Martiri della Libertà non vediamo solo l'imponente maniero medievale o il simbolo del Rinascimento estense, ma anche uno dei luoghi in cui furono fucilati 11 cittadini innocenti in quella gelida lunga notte del 43. Grazie Florestano che con i tuoi film ci aiuti a ricordare. Ferrara, la tua città, non ti ha dimenticato. Grazie a tutti.